Bene raga, nuovo video e siamo in pesca. Oggi è una pesca un po' diversa. Sto prendendo lezioni di pesca allo storione. Non una pesca da mostri, non una pesca da titani, perché bisogna dare ferrate allucinanti. Sto pescando con una canna che super giù peserà sui 2,5 kg, se non 3. Quindi un'attrezzatura molto pesante, lenza dello 0,80. Un bella moto. Stiamo solo aspettando il pig. Per capire se hai aperto bene la canna, devi fare così. E senti se si sginocchia. Ah, se... ok. Se fa quello, cerca di capire dov'è, perché se picchi qualcosa di grosso e la sezione non si è aperta bene, riesci di sfondare la canna da pesca. Ah, certo. Queste sono tanto... me le hai aperte bene. Sono tanto robuste, ma se sbagli qualcosa... Sì, sì, certo. Un attimo. Perfetto. Meglio di così. Sì, sì. Ma non spaccate un paio anch'io. Faccio un tiro di rutto. Vai, vai. Primo lancio e si va a mostri. Pac. Allora, la prima regola è questa. La canna, la pesca, la sturgio, deve essere questa qua. Vedi... Deve essere in linea con il pipotto. Vedi il filo. Perciò, tu ti metti così. Io sono uno di quelli che la canna la tiene sempre... La mano la tiene sempre così. Anche quando sono in testa ce l'ho già così. Ah-ha. Sempre. Quando vedi il movimento un po'... Ora non si vede il bello di alto, però è il riferimento del filo. Sì, sì, io guardo la lenza. Non lo guardai così, guarda. Te la tieni un po'? E molli. Lui si agira per i cazzi suoi perché sono molinelli abbastanza tosti. E buono. Lo storione è come una mangiata di una trota. Lo senti nel colpastrello. Lo senti nell'anima. Eh, sì, sì. Poi vedi vibrare, eh, un po', micia. Un po' basta... Un pesce grosso così ti può fare una mangiatina come un'alborella. Ah, certo. Ora io te l'ho messa in pesca proprio come deve essere. Perfetto. Io dico questa. Ti metti lì così come faccio io. Tieni la canna così. Ok. Se vedi la mangiata... Ok. Vedi dove va la canna. Sì. Vedi le flecciate che dici. Come va lì indietro. Ma devi dargliene tanta, eh, perché sennò non lo freghi mica. E' quello. Se tu invece fai così, non arrivi a fare quel lavoro. Ok. Quindi, una qui. Sì. E l'altra dove c'è il rosso. E l'altra ti metti così. Ti metti così. In teoria. Vedi come si rimassa. Fammi provare, così mi dici se va bene. Occhio solo alle spalle, eh. E non toccare l'avetta dietro. Metti la canna bassa. Recupera un pelo. Vai, picchia sopra. Vedi che è difficile. Devi andare più forte. Più forte. La lama. Devi sentire il tazzo. Uno, due, tre. Molli la leva. Manno lì e picchia in alto alla tua testa. È lento. Vedi che dove ti porta. È lento. Ancora non ce l'ho. Uno, due, tre. Abbasca. Sbagliato. Sbagliato. È questa, guarda. E vabbè, ovvio. È normale. Guarda, senti, eh. Questo è il sistema. Uno, due, tre. Ah, tu quasi che picchi verso il punto e poi tiri su. Ok, 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 ok. Fai così. Tiri indietro. L'altro devi cercare sempre di mettere questo qua e questo girarlo in modo tale che non si spacchi. Certo. Diventa un bel boccone. Bello così. Ah, lo mangiamo noi. Lo spero, Salvo, lo spero. Occhio che hai sempre della roba morbida, eh. Perciò valuta bene la picchiata. Il molinello ce l'ha al centro tra i due picchetti. E siamo in pesca primo, la nostra raga. Devi stare costantemente con l'occhio sia sul galleggiante che sulla lenza. Essendo uno scorrevole potremmo non avvertire magari un movimento sul galleggiante ma sulla lenza sì. E a quanto mi ha detto, insomma, a quanto mi dice il mio maestro, la mangiata dell'ostorione che sia da un metro o due metri potrebbe essere simile a quella di una trota. Nel senso che non è detto che la canna parta, ma semplicemente che ci siano piccole vibrazioni che vanno assolutamente avvertite per essere pronti a ferrare. Dobbiamo riuscire a tendere una lenza che ha una lunghezza di 60 metri e appunto una profondità di due. Quindi ci vuole molta potenza ma soprattutto bisogna riuscire a capire qual è la tensione giusta del filo prima di ferrare. Tutto questo ovviamente tenendo conto di come sta mangiando il pesce e di come si sta muovendo. Se ha mangiato il boccone, se lo sta assaggiando, se lo sta trasportando. Quindi bisogna stare molto 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 attenti. Forse ci siamo. Abbiamo messo l'anello sulla lenza, si è appena alzato. Potrebbe essere il primo segno ragazzi. Ci sta dando, ci sta dando. C'è, 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 c'è. C'è l'ho. C'è. C'è, c'è, c'è. Sì. C'è, c'è, c'è. C'è. C'è un gatto. Sarà un gatto? Che cos'è? È uno storione. È uno storione. Ma chiamalo. Chiamalo Pinocchietto, chiamalo. C'è un gatto. Ush. Come lo stai? È divertente. E' divertente. Vabbè, l'hai chiamato bene. Che cazzo è? Sono stato bravo. Mi sembra che bisogna rientrare. Yes. minca ci ha dato un pochino poi dopo è stato fermo poi è partito subito io sono stato anche scemo a non spiegarti come funziona l'anello si l'anello non l'ho levato nemmeno capirai andiamo di lava in acqua ah a parli di me quindi devo stare più indietro minchia va di peso però ecco che sei incazzato guarda cosa va giù minchia qui te li fai tutti i muscoli anche pure allora vieni dietro di me si sono dietro di te si si lascio si lascio eccolo quanto sarà questo un 15 di meno ah bello le cannele non si appoggiano mai a terra scusa scusa porca troia sempre su picchetto piuttosto allunghi la frizione ok 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 ma questo è perché è perché sono poco esperto ustia bello cos'è ce l'aveva in bocca bello 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 quanto andato ah questa c'aveva in bocca no questa la tagliamo che so sarà il pasto del prossimo store l'ho ripreso tutto come no minchia c'è con le palme laggiù coperte completamente dall'acqua c'è? eh beh c'è? se io non avessi letto la situazione c'è il monster sembra una carpa cos'è un rotante? sembra una carpa se la carpa gli è data l'ora smetto di pescarlo è un gatto è un gatto? lo vuoi lo mangi ma no lo mangi tu lo mangi ora cosa gira? si ma guarda che roba è un gatto qua stai parlando del top del top mai preso neanche un gatto cioè te mi hai fatto fare i due pesci che non ho ancora preso nel giro di un'ora cosa gli facciamo? come lo tiriamo? lascia pure è un gatto ma due pescatori la vicino no è per non rompere la canna nooo non è un gatto non vi interessa? se non vi interessa l'ora sei sicuro? no no vai tranquillo neanche io è un gatto non pensavo neanche che il gatto si mangia sulla rota il gatto si mangia pure noi grazie vedi questa? si ok tu fai così ok quando tu l'hai preso così il pesce è inerme non ti può fare un cazzo perché sono quelle queste qua che ti periscano e questa dietro e questa dietro quando lo lasci non lo lanciare sempre appoggiare al duolo perché lui si dimena fai così lo fai cadere e basta ciao gatto ciao gatto ciao